Gentili sindaci, assessori e consiglieri, innanzitutto grazie per il lavoro che avete svolto in questi due mesi di emergenza dovuto al Covid. Un ringraziamento va anche ai funzionari e ai dipendenti che vi hanno assistito in tutte le attività che avete messo in campo. La Regione dal canto suo ha cercato di dare risposte immediate e far fronte all'emergenza attraverso gli strumenti che avevamo a disposizione. È stato un evento imprevisto ed imprevedibile, a cui nel complesso credo di poter dire abbiamo risposto in maniera esaustiva in base alle nostre possibilità. Ora che la fase 1 è passata, quella dell'emergenza, è necessario ripartire cercando di tornare ad una forma di normalità che assomigli il più possibile alla vita che ognuno di noi conduceva prima dell'arrivo della pandemia. Il Consiglio regionale, attraverso la consulta europea, con la fondamentale collaborazione dello Iuse, della rappresentanza in Italia della Commissione europea, di Ires Piemonte e di altri partner a cui va il mio personale ringraziamento, ha deciso di organizzare una serie di incontri in modalità digitale rivolti agli amministratori locali e ai funzionari per approfondire le opportunità europee sui fondi e sui finanziamenti messi a disposizione per aiutarci ad una ripartenza sicura e sostenibile. Nel corso degli incontri svolti da professionisti ed esperti, così come abbiamo già avuto modo di fare in più occasioni, affronteremo i temi legati al SUR, quindi al Fondo Antidisoccupazione, ai finanziamenti offerti dalla BEI, la Banca per gli Investimenti Europei, parleremo di fondi strutturali europei, la programmazione che si sta chiudendo e la nuova programmazione che inizierà il prossimo anno, dei decreti governativi, delle misure di finanza straordinaria ed altro ancora. Certo di farvi cosa gradita con questo piccolo contributo che abbiamo voluto mettere a disposizione, io vi ringrazio nuovamente per il vostro grande impegno e vi saluto cordialmente.